L'RCD di SMFL Me lo ricordavo sto schifo qua effettivamente Fa un po' schifo Fa un po' schifo come l'hanno reso qui Inventa Flint, inventa Inventa cosa? Ho una spada Allora sei utile tu Mi cambi le armi Sposiamoci Vimi qua Non c'ho pugno Allora io ho bisogno Bravo secchione Non hai Pugno coltello Allora no mi sa che lui c'è solo questo tipo di cose E' lei che c'ha entrambe Giusto? Coltello elettrico pronto Flint Esatto Inventa Flint Inventa No ma scusami Esatto Prima mi ha dato questo Ok coltello forchetta Ehm Va bene si Mega tirapogno Spara e aspira sul ponte Flint Statevi zitti Io vi odio tutti Oh ho bisogno del caffè per lui vero ahia perfetto e ora andiamo a menarlo arrivare all'rcd di smfl certo e ora ti spedisco al creatore che sono io quindi ultima bravo secchione meglio allora calmi tutti dammi una goccia esatto di qualcosa ma si la pistola scaldante non mi fa schifo ho bisogno della noce di cocco che è la perfetto ho bisogno della noce di cocco che è lì grazie ecco fatto ecco fatto mi fa sempre ridere che ecco fatto benissimo è stato semplice uccidere il marshmallow col coltello ovviamente molto meglio che usare il come si chiama la pistola per scaldare colpito con la spada colpo mortale colpo mortale certo che come boss fight in realtà non è neanche terribile quattro fasi diverse una più difficile dell'altra sono sicuro che se crepo me la fanno rifare da capo ho bisogno dei pugni e di qualcosa che scaldi quindi la pistola per forza di cose che giro assurdo mi state facendo fare che giro assurdo mi state facendo fare operazioni avvocato brett salvami ok quindi non ho una goccia di qualcosa per poter l'aspira e spara non brucia eh già però il caffè ed ecco qua non non brucia non ti aiuta nel tuo percorso qualcuno mi esatto questa gocciolina minuscola sai cosa il pupazzo lo lascio in vita mi sa che non posso lasciarlo in vita mi sa che se non lo toglievo non mi faceva passare mi sto alla fondente carica e pronta flint e io ho bisogno del coltello quindi muori ecco scappa perfetto che la cipolla è terribile in sto gioco del cazzo la cipolla fa schifo ti fa un sacco di danno se entri in quell'area non brucia questa fase non brucia ti dirò che non è stata orribile anzi hanno avuto una bella pensata di farti fare tutto il percorso così sinceramente non ho nulla da da dirgli incontrare a parte che non ho il non ho la forchetta ma ehi basta fare così manca davvero poco bastava andare di lato per poterlo fregare ecco oh calmo calmo troppo troppo scivoli troppo e fanno ancora dimmelo stasera maledizione a voi ecco fatto ed ecco qua dai non brucia ero oh 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 che cazzo stai facendo operazioni avocado preso fase 3 andata ma che secondo me questi livelli qua questo qua in particolare in coop e lo fai facilissimo ah così non c'è nulla spray per le scarpe carico per la super lucidatura c'è l'ultima fase così a lì c'è polverizzalo già come dice lei come dice la donna la calla da scarpe secchione flint usa lo spray e ce l'ho aspetta 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 no 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 non me lo potete dire non me lo potete dire spray per le scarpe carico per la super lucidatura oh oh gesù io io per un attimo ho avuto paura ma sta creando delle scarpe non è che funziona così comunque per un secondo ho avuto paura che il gioco mi avrebbe fregato che se non avessi avuto l'effettivo spray ottenuto da tutti i pezzi dei vari livelli non me l'avrebbe fatto usare presa esplodo cazzo pum distrutto punto di domanda io ti dico di no visto che c'è il 2 daie vediamo i crediti finali del gioco saltando sull'auto volante 2 Sam Brent e io fuggimmo eroicamente dall'astro polpetta e l'RCD di SMFL smise di far precipitare i suoi mostruosi cibi sull'isola il giorno seguente per la prima volta dall'inizio di quegli incoco era tutto tranquillo boia l'abbiamo completato cazzo oh bai xiao dong cristo è stato comunque interessante non lo voglio negare non era fatto male abbiamo giocato di peggio sei stato bravissimo flint sapevo che avevi ragione flint ma mi manca un po' il gelato oggi hai mostrato quanto vali flint sei sei la luce dei miei occhi ma ce li hai sempre chiusi questo sembra il bug di menu di il menu di debug dove ti metto tutti i personaggi in fila che non fanno niente andiamo nel laboratorio ma era necessaria questa scena cioè ci sta perché conclude il tutto però entrando nel laboratorio notai qualcosa di strano aspetta il pericolometro era ancora sul rosso afferrai subito il progetto del replica cibo sta continuando si era attivato il sistema di sicurezza che significava che la macchina stava cucinando nuovi disastri mi resi conto che ci voleva ben altro che il mio spray per le scarpe per tappare la bocca al mostro restava un'unica speranza trovare tutti i pezzi mancanti il mio progetto originale e far rivivere la mia più grande invenzione di sempre il super spray per le scarpe nooo flint che cosa mi stai dicendo l'arma definitiva flint che cosa io non ci voglio credere flint mi hai fregato un'altra volta dio mio se ti odio distruggi aaaaaaah aaaaaaah